Allora, Mario, questo è il controllo dopo un mese dell'operazione di angioplastica? Sì, diciamo un mese e mezzo. Un mese e mezzo che l'ha effettuato il 30 settembre con il dottore Gargano. Sì. Ci vuole raccontare anche lei la sua esperienza? Ah, è stata una bella esperienza, diciamo già subito durante l'intervento alla fine si è sentito già qualcosa di diverso. Che ha sentito? Nel braccio che si è liberato, diciamo, nella mano. Perché erano già parecchi anni che mi dava fastidio anche per mangiare, che mangiavo solo col braccio sinistro. Invece sono riuscita ad usare di nuovo il braccio destro. E poi che cosa vuole aggiungere? Che le gambe... Non abbia vergogna. No, le gambe si sono diciamo ammorbidite, la fatica diciamo che rispetto a prima è molto molto meno. Sì. E poi ho riconquistato anche abbastanza l'equilibrio, stare in piedi senza appoggio. Senti, l'intervento com'è stato? Ah, è stato... Diciamo che il dottore sospettava qualcosa di meglio perché ha detto che ha dovuto tribulare. Ha dovuto? Tribulare un po'. Ah sì? Sì, perché pensava che le vene erano un po' meno chiuse, invece quando è andato ha trovato le vene abbastanza chiuse. Ma ha avuto paura in sala operatoria? No. Sono andato tranquillo, convinto. E poi quanto è durato il suo intervento? Mi sembra un'ora e un quarto. Ah, abbastanza. Eh sì, perché non si aspettava neanche lui che erano così chiuse. Ci racconti un po', su quale sono state le sue impressioni? Ma hai come impressioni... Non so come spiegarle. Certo. Che uno pensa di cambiare la vita. Se... di passare di nuovo a ritornare... a posto di andare con la sclerosi multipla in avanti che ti blocca a ritornare indietro alla vita normale. E quindi? Eh... Qual è stata la sua sensazione? Di benessere, di tornare a star bene. E ci hai riuscito, no? Sì, rispetto a prima sì. Sono più tranquillo. Senta, vuole dire qualcosa a chi l'ascolta? Vuole dare qualche consiglio? Vuole... Non lo so, vuole aggiungere qualcosa? Io... Io... Io sono stato dal mio neurologo e posso dire che mi avevano sconsigliato. Però... Non... Non ero convinto e ho voluto provare. Se... Ormai... A provare non succede nulla. Di... Bisogna provarci. Quindi... Nonostante tutto... Sì. Il mio... Contrario del mio neurologo e altri dottori. Però... Non sono stato a sentire nessuno. Sono stato convinto di me. Dalla mia scelta. Sono andato... Senza... Convinto proprio. Sua moglie è contenta? Sì. Senta... Mario... Allora lei... Quando tornerà tra sei mesi a fare il controllo? Ci darà un... 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 Spero di non usare più la sedia a rotelle. Arrivare con le stampelle. Speriamo. Ci comunicherà ancora di nuovo qual è la sua situazione allora. Va bene. Va bene? Grazie mille Mario. Prego.